buongiorno a tutti cari amici lontani e vicini e benvenuti in un nuovo episodio di ore le usanze oggi intervisterò andrea tesoriero presidente della sclipari prima di iniziare però vi ricordo che ci potete seguire su tutti i nostri social instagram facebook twitter e youtube detto questo possiamo iniziare con l'intervista ci colleghiamo subito con andrea buongiorno mi sente buongiorno buongiorno federico si risento bene e allora iniziamo subito con la prima domanda diciamo che da grande tifoso ha riportato alle olie il calcio ad un certo livello inizialmente con la squadra dedicata appunto ai nero azzurri e successivamente dedicando il nome della squadra alla nostra fantastica isola che è quella appunto dell'ipari come mai questa decisione ma è venuto tutto in maniera molto naturale nel senso che questa squadra è nata quattro anni fa da un progetto solidale dell'inter club cioè a dire non esisteva più una squadra di calcio e si è voluto dare l'opportunità al gruppo storico dei giocatori di avere un qualche cosa per il lungo inverno e oliano freddo e così via e la continuità di questo progetto poi alla fine ha fatto capire che insomma si va a rappresentare l'ipari i paroti e quindi non aveva senso rappresentare soltanto una parte dei tifosi interisti di ripari noi quando andiamo sia in trasferta che a casa che qualsiasi attività noi andiamo a fare rappresentiamo liberi bene quindi comunque deve essere stato difficile anche in questi due anni di pandemia diciamo affrontare il calcio come l'avete affrontata questa situazione è stato molto difficile ma come qualsiasi come qualsiasi attività e parlo di attività perché anche a questi livelli una squadra di calcio deve essere vista come un piccolo negozio un negozio una ditta una grande ditta quella che sia e soltanto questo soltanto applicando questo concetto ci ha fatto uscire da questo periodo di pandemia le difficoltà sono state sia dal punto di vista sportivo perché il primo lockdown forse è stato più semplice nel senso che i campionati sono finiti punto e basta il secondo no si parlava di una sospensione e quindi sospensione di un mese e quindi devi fare comunque la benzina nelle gambe dei giocatori doveva restare la stessa della preparazione quindi mi ricordo tutti i messaggi mandati su whatsapp di ogni singolo atleta per garantire sempre la sua resistenza fisica e poi a un certo punto ci si è fermati poi forse a marzo si ricomincia e quindi rimettete nuovamente per fare una specie di preparazione e poi anche dal punto di vista comunque economico che ripeto soltanto ragionando come se fosse un'attività perché così si è potuto uscire da questo da questa pandemia speriamo di uscircene perché ancora ancora forse siamo in pieno esatto parlava inizialmente appunto di campionato sappiamo che avete iniziato è un nuovo campionato ovviamente a un costo riuscite a sostenere tutte le spese della squadra che comunque ha una squadra un'associazione necessita domani è la quarta giornata quindi vi aspetto all'ipari i costi sono molti federico perché non lo so io ho esperienza del calcio ed è una spugna di soldi questo te lo posso assicurare ripeto è un'attività quindi deve essere gestita in questo senso e soltanto facendo così si può garantire la continuità del del programma bene con tanti giovani diciamo presenti nella squadra quest'anno dove volete arrivare esattamente si può pensare anche alla promozione o è chiedere troppo da tifoso ti dico che non è mai chiedere troppo no sognare è bello guai se non fosse così da dirigente di questa squadra ti rispondo che io non guardo una promozione di un campionato io devo guardare e al progetto che si porta avanti e il progetto va completato in tutte le sue in tutti i suoi aspetti dal punto di vista medico bisogna lavorare sempre di più perché ogni atleta deve avere la sicurezza di giocare e quindi l'indomani deve essere protetto dal marketing dal 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 da tutto il mondo che ci deve vedere e quindi a me interessa fare questo da dirigente e lasciare il più il più possibile meno al caso quindi soltanto facendo così poi penso che qualcosa potrebbe arrivare in molte interviste rilasciate in molti diciamo programmi anche al notiziario appunto da molte testate giornalistiche scusate lei afferma appunto di far socializzare i ragazzi ma soprattutto di toglierli dalla strada e far fare loro dello sport perché appunto fa bene che consiglio può dare ragazzi che vogliono intraprendere questo sport o altri tipi di sport di non smettere mai di sognare e di non smettere mai di divertirsi e di continuare a inseguire nel nostro caso un pallone sia su un campo sintetico sia in erba sia un campo di terra sia di fango di continuare a inseguire questo pallone con il sorriso nella bocca nel nel cuore negli occhi e poi di restare sempre umili e di ascoltare magari un pochettino di più chi inizia ad avere i capelli bianchi se facessero questo per bene qualche ora in più la notte mi farebbero dormire è purtroppo noi giovani siamo sempre così siamo testardi quando ci mettiamo una cosa in testa non ce la leva nessuno ma è giusto che sia così tutti quanti noi siamo stati così è sì certo certo vuole ringraziare qualcuno in particolare diciamo per la realizzazione di questo sogno calcistico e comunque ancora continua ma guarda federico io ringraziare io ringrazio la gente la gente ringrazia ad esempio te che hai voluto fare questa intervista perché soltanto vedendo questa partecipazione si si continua e si trova la linfa di continuare giorno per giorno e sarebbe semplice ringraziare tutti i nostri sponsor però io con gli sponsor faccio sempre un ragionamento che non è un dire grazie è un dire benvenuto in questo gruppo perché è una strada che dobbiamo fare tutti quanti insieme non è andrea tesoriero il vicepresidente il segretario l'allenatore e lì pari e quindi tutti quanti noi dobbiamo essere partecipi a questo progetto perché è bello e rappresentare li pari e altrove quindi posso dare il benvenuto ad esempio alla liberty lines che opera in un settore il nostro main sponsor e ha dato un qualcosa di molto importante per far sì che quest'anno questo progetto continuava opera in un settore ma opera anche nella nostra vita sociale quindi questo è bello do il benvenuto ad esempio alla pizzeria pesce cane che da quattro anni che sempre accanto a noi e do il benvenuto a e olien bunker che sempre presente nella vita sociale di libari a ideal color alessandro ha una ditta che non è di libari a libari ha una sua filiale e nonostante questo è voluto essere partecipe a questa a questo a questo sogno c'è la ditta nino zino che ci ha fatti i borsoni c'è carmelo sparacino che ogni lunedì gli porta il borsone ce lo riempie di medicine e c'è l'angolo del pesce che insieme al gruppo reggina ci ha fatto l'allenamento estivo c'è il gruppo reone c'è peter alberghi e per adesso appena il suo presidente scende da rimini firmiamo il contratto di partnership quindi ma ci sono anche tutti i partner c'è il botteghino c'è le pulera c'è l'hotel tritone c'è tindaro martino che ogni volta che andiamo in trasferta ci fa sempre avere i suoi panini e quindi ci accompagna nel viaggio c'è il bar la vela c'è il bar il pescatore c'è l'usso di luna c'è ci sono tanti in questo in questo gruppo che li dovrei ringraziare ma ripeto io do il benvenuto a loro perché la strada che dobbiamo fare dobbiamo fare insieme certamente e allora io la ringrazio oggi per essere stato qui appunto ringraziamo andrea tesoriero per aver accettato il mio invito per me è sempre un piacere forza lipari in bocca al lupo per tutto e forza inter da parte di bartorino leone da parte mia no perché non segue il calcio però così facciamo contento al nostro direttore forse inter noi questa giornata esordiamo con l'inter che gioca alle 18 e con il liberi che gioca domani 15 e 30 quindi è full immersion di calcio esatto esatto bene io la ringrazio ancora una volta oggi per essere stato qui e la saluto vuole aggiungere qualcos'altro non lo so che magari c'è no salta grazie ti ringrazio a te ringrazio al direttore bartolino grazie bene e allora grazie mille arrivederci forza lipari ciao sempre purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui arrivati a questo punto io federico lo schiavo vi mando un grosso bacio dal sole sempre libero delle olie arrivederci